È rinviato il previsto stop ai tir mirato a consentire l'avanzamento dei cantieri lungo l'Alemagne in vista di mondelli di sci di Cortina 2021. Oggi un incontro in prefettura con Anas e Polstrada per formalizzare la decisione. L'ordinanza per lo stop ai mezzi pesanti è slitta a settembre. È rinviato perché Anas ha un leggero ritardo sulla consegna dei lavori dovuto ovviamente al sistema di affidamento e come abbiamo sempre detto il dispositivo di traffico che limita il transito ai mezzi pesanti è strettamente connesso all'apertura dei cantieri. Per cui nel momento in cui saranno aperti i cantieri che avranno impatto sulla viabilità della Statale 51 allora partirà il dispositivo di traffico. In questo modo si eviterà di aprire i cantieri per pochi giorni soltanto. Era già stato concordato con Anas una sospensione dei cantieri nel mese di agosto e quindi Anas ha valutato che aprire i cantieri poco prima di questo periodo di sospensione non è assolutamente coerente col programma dei lavori e quindi evidentemente in assenza di cantieri nel periodo di luglio ed agosto non è assolutamente giustificabile il provvedimento che riduce il traffico dei mezzi pesanti.